Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti se è la prima volta che siete su questo canale parliamo di profumi. È quasi San Valentino e quindi vi voglio dare dei consigli di coppia questa volta, profumi per lei e per lui, per farvi dei regali spettacolari. Andiamo! Vi devo dire la verità, è la seconda volta che registro il video, la prima volta l'ho registrato tutto senza audio. Volevo ammazzarmi, ho dovuto aspettare due ore prima di rifarlo, spero comunque di ridarvi le stesse emozioni. Ho deciso di fare una classifica dei profumi di nicchia particolari, dal meno costoso al più costoso, per ragazzi che magari si vogliono fare un pensierino, fino a coppie attempate, che invece si vogliono fare dei regaloni. Vediamoli. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre, come al solito, bibidi bobidi baus, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di mettere il clicchino sulla campanellina, così rimanete sempre aggiornati. Mi raccomando. Cominciamo con quelli meno costosi, unisex e da donna. Sto parlando dei profumi delle colonie forti di Emanuela Biffoli, una designer di accessori, borze femminili e quant'altro, ma anche una linea di profumi, ve ne ho parlato già qualche tempo fa e ve li ripropongo. Ma questa volta vi propongo rosa per donna e damasco, sempre da donna, ma indossabile anche da un uomo. È un profumo dolce, se mettete profumi tipo che vi devo dire? Gozo? Beh, allora potete mettere anche damasco, senza problemi, anche se lui è più ambrato. Comunque adesso ve li spiego. Con circa 30 euro ci portiamo a casa uno di questi due profumi. Rose è ispirato, pensate un po', al rinascimento fiorentino, quando le ragazze tra una determinata data, adesso non ricordo quando, facevano questa usanza di mettere i petali di rosa fuori alla finestra e lasciavano che la ruggiata della notte li bagnasse e poi la mattina si cospargevano quest'acqua profumata di petali di rose addosso per trovare la loro metà. Ecco, rose si ispira proprio a questo, è un profumo alla rosa, con un paciuli di sottofondo e un leggero incenso. Ha un bel corpo, una bella rosa damascena, piacerà a qualsiasi donna al quale piace la rosa. Immaginate, ecco, fargli un bel mazzo di rose con rose. Bellissimo regalo. Per non parlare invece di damasco, un profumo che potete prendere anche per voi uomini, se avete la voglia di indossare un profumo caldo ma non troppo forte, ok? Perché vi ricordo che sono sempre colonie forti ma colonie, durano a lungo e persistono parecchio però in una maniera soft. Damasco invece è un profumo più ambrato, decisamente più vanigliato, con questa vanillina che si percepisce forte. È un profumo ispirato invece alla nobiltà e a questo sfarzo incredibile che si percepiva in quel periodo fiorentino al quale si sono ispirate queste colonie. Due ottimi profumi da regalare per fare un pensierino, 30 euro, alla vostra ragazza oppure la vostra ragazza a voi. Pensateci. Alziamo di pochissimo l'asticella del prezzo e andiamo con profumi che sapete io adoro. Sto parlando dei step aboard. E in particolare per lei ho pensato a Sunday Street e per lui ho pensato a Transition Gate. Sunday Street è un profumo super caldo, con questa nota un po' di panificazione derivata dalla vaniglia e dal fragrante mais tostato insieme a questo sentore zuccherino, un po' dei petali di mais per fare la colazione. Quindi è cerealoso, vanigliato, super morbido. Non è un profumo da scia totale, è un profumo molto intimo, ma per una donna è fantastico perché questo è Baciami, quindi un ottimo profumo per lei. Invece ho pensato a lui con Transition Gate. È un profumo decisamente più mascolino, con questa nota fumosa ma spenta dall'acqua perché è un profumo al cuoio acquatico. Pensate voi che figata. Quindi legno di betulla, cuoio, acquaticità, note leggermente metalliche che ne compongono questo spettacolo di profumo che non solo lui ha anche una bella persistenza, ma in più vi donerà quella sensazione di rimanere in una Tokyo desolata con i fumi di scarico che escono fuori e le carte che svolazzano. Fantastico. Qui siamo sui 45-50 euro, circa l'1 per 150 ml. Andiamo avanti. Alziamo di pochissimo l'asticella del prezzo e ragazzi, questa è un'anteprima italiana o credo anche europea. Questi profumi qua li potete trovare solo in un'unica profumeria in tutta Italia e praticamente, raga, l'ho scoperta io. Sto parlando di Alhambra. Che spettacolo di profumi, raga. Voi non avete idea. Per il prezzo e per la qualità non avete idea. Comunque ve li farò scoprire perché ce l'ho tutti, ma oggi voglio proporvene due per San Valentino. Uno da donna, uno unisex. Cominciamo da quello unisex. E sto parlando di Mask Ambra. Bellissimo. Tra l'altro anche il pack è stupendo. Mask Ambra è, lo dice il nome, Alhambra gioca tutto sulla nota dell'Ambra, ok? È stupendo. Allora, se avete sentito Oud Vanille di Mancera, ve lo potrebbe ricordare, ma lui è più soffice. C'è meno Oud dentro, anche se l'Oud c'è. Ma c'è quest'Ambra e questa vaniglia che vengono proprio spinti all'ennesima potenza, ma c'è dentro un particolare balsamo che si chiama balsamo di Copaiba, o Copaiba, che è praticamente appunto un balsamo che viene utilizzato, pensate voi. Io non lo sapevo, me lo sono dovuto andare a studiare perché le note lo ricordano molto, nei profumi di Maison Francis Courjean oppure di Kilian, perché è un balsamo molto dolce, con questo sentore riconoscibile, no? Di estrema qualità, rotondissimo, sa di legno. Però è quasi gourmand. È spettacolare, poi per il prezzo che hanno è una cosa pazzesca. Lui sarà mega contento e anche lei, se gli piacciono i profumi ambrati, anche questo potrebbe essere tranquillamente il profumo che tu puoi fare a lei. Per quanto riguarda un profumo prettamente femminile, anche se io lo indosserei, perché è sì femminile ma è anche freschissimo, sto parlando di Cécile, sempre di Alhambra. Guardate che bello il flacone. Dimenticate qualsiasi profumino ai fiori delle marche più blasonate che trovate in tutte le profumerie classiche. Questo è un profumo stupendo, floreale, femminile, di nuova generazione, di nuova concezione, si sente. È estremamente moderno, pulito, aromatico. Non vengono riportate le note precise, ci sono soltanto note fiorite. Ma io qui dentro ci sento note che conosciamo tipo l'Ambroxan, il legno di Kashmir, no? Bellissimo. Poi c'ha questa sensazione di muschi bianchi pulitissimi, anche lui di ottimo sillage durata. Sono profumi fantastici, lei ne rimarrà stupita. Se gli piace Chanel o se gli piace Barberi, gli piacerà. E sto dicendo per farti capire l'escursione. Due profumi fioriti, un fioritone, un aldeidatone. Lui gli piacerà. Fantastico. Un'altra marca per andare a colpo sicuro che io adoro e ormai lo sapete perfettamente, sto parlando di Giardini di Toscana e in questo caso ho scelto per voi Blu Indaco per lei e Rosso Radice per lui. Blu Indaco è un profumo ambrato, spettacolare, che unisce note di sintesi a estrazioni naturali. È un profumo che sa di talco con una potenza micidiale. Ve lo portate praticamente tutto il giorno, se lo regalate a lei fate un figurone assurdo. Praticamente sa di talco bianco, ok? Fortissimo, con un sentore ambrato di sottofondo molto molto presente, leggermente dolce ma non stucchevole e questa polverosità che lo accompagna, appunto perché sa di talco, con un sentore cosmetico, super riconoscibile, una bomba di profumo. Blu Indaco per lei. E per lui invece Rosso Radice. Questo qui è un altro profumo spettacolare che si riconosce subito quando lo spruzzi, sa proprio, ragazzi, di radice. Qui dentro c'è sicuramente del vetiver, c'è sicuramente una nota più dolce. Lui è spettacolare, si apre con il bergamotto, super fresco, super carismatico, con questo vetiver. Un vetiver così io non l'ho mai sentito, perché non sa di classico vetiver, non sa di fumoso. È bianco, è luminosissimo. Un vetiver mega elegante, con questo muschio di sottofondo, mascolino, muschio di quercia. Stupendo, sa veramente di radice, con una nota di Ambroxan che lo fa diventare un profumo di nuova generazione, ok? Quindi non è un vetiver scontato o alla vecchia maniera, assolutamente no. Questo è un profumo dai venti in su senza problemi. Super performance, super persistenza, con questo sentore sempre pulito, spettacolare. Quindi, di Giardini Toscana, per lui Rosso Radice, per lei Blu Indaco. Andiamo avanti. E adesso alziamo l'asticella del prezzo di tanto parecchio. Ma questo è per quelle coppie che si fanno dei regali senza badare a spese, che si vogliono fare dei gioielli. Si vogliono mettere dei gioielli in casa. Sto parlando di Electimus e, per lui, Imperium. E per lei, Mercurial Kashmir. Ma in realtà, sentitemi bene, Mercurial Kashmir è perfettamente unisex, come anche Imperium è perfettamente unisex. Quindi, lui l'ho scelto per lui e lei per lei, ma in realtà, ragazzi, sono tutte e due super mega hyper unisex. Comunque, ve li descrivo e poi valuterete voi. Mercurial Kashmir. È fenomenale. Ha una piramide olfattiva stupenda. È un profumo... Oh, ambrato, con questo cardamomo che apre insieme alla tuberosa, che si sente ma non si sente, quindi non lo fa diventare femminile. Le fave di tonca, il legno di cedro, l'oud, l'ambra, mamma mia, l'iris. Che profumo spettacolare. È complesso, ma allo stesso tempo è tutto ben mescolato, ben amalgamato. Ottimo sillage, durata pazzesca. Vi confesso, vi confesso che Mercurial Kashmir è il mio preferito in assoluto di tutti gli Electimus. Lo adoro, è spettacolare. È un profumo che, se siete degli uomini e mettete gozzo, non avete proprio il minimo problema a mettere lui, perché la tuberosa qui si sente anche meno di gozzo. I fiori si sentono meno di gozzo, si sente più l'ambra, la dolcezza della vaniglia, il legno di cedro, questa rotondità bellissima. Mamma mia. Stupendo. Io lo adoro lui. Quindi, a lei regalategli Mercurial Kashmir, ma fatevi regalare anche a voi Mercurial Kashmir, oppure lo prendete per lei, ma alla fine lo mettete voi. Ci siamo capiti. Se invece siete delle donne e vi piace Creed Aventus, non potete non indossare lui, oppure regalarlo per il vostro uomo. Sto parlando di Imperium, sempre di Electimus. È un profumo che si ispira, o comunque ha quelle vibe, un po' come Nishana, Sivat, no? Ecco. È un profumo che somiglia molto a Creed Aventus, ma è più dolce. Quindi la nota di ananas, la nota di Metilalil Glicolate si sente molto di più. Quindi a me piace tantissimo quella materia sintetica lì che sta di ananas. È stupendo. Più dolce, più fruttato e dura molto molto di più. Quindi ha questo sentore zuccherino che lo fa perdurare tantissimo tempo, ma è molto meno fumoso. Quindi il legno di betulla io credo non ci sia, ma se c'è non si sente. Bellissimo. Quindi questo legnoso con questa nota a fruttata di ananas sopra. Bellissimo. Imperium. Ottime performance, grande durata, confezioni stupende. Quindi questi sono veramente gioielli da regalarvi. Bene, ricapitolando. Per spendere poco c'è Biffoli che fa delle ottime colonie forti, persistenti. Per invece fare un regalo a delle persone dinamiche, che magari indossano profumi, che hanno già dei profumi, vanno sempre alla ricerca di qualcosa di particolare, che amano le novità, oppure sono super dinamiche, persone dinamiche, street, no? Allora step aboard è il profumo che fa per voi. Se siete invece delle persone che cercano qualcosa di unico, inconfondibile, profumi molto potenti, dalla grande scia, durata, particolari, con questo sentore sempre presente di talco, di talcosità, muschiosità, allora andate con Giardini Toscana. Se invece volete qualità prezzo, qualità altissima, prezzo bassissimo per profumi stupendi, con base ambra, ma anche in realtà poi c'è un mondo dietro, ve li farò scoprire, sono spettacolari, andate con Alambra e la o vi farete felici. E se state cercando dei profumi di estrema qualità, stupendi, unici, inimitabili, bellissimi, allora andate con Electimus e vi metterete in casa un gioiello. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere qui sotto se indosserete uno di questi, regalerete uno di questi, oppure se avete altri consigli da darmi, magari, che ne so, per il prossimo anno di San Valentino quello ce lo mettiamo in mezzo. Fatemi sapere e anche come va, se siete fidanzati, non siete fidanzati. Apriamo delle discussioni, vi leggo tutti. Al prossimo video. Ciao ragazzi.